A FIPCO UNO UnO C'è posta per te? D'amio sta posta? C'è sta lo bacca, lo doppio bacco. Pino! Eccomi! Oddio! Che sei impazzito a comparire così? Fai un infarto, chi ti prende più a lavorare? Non sei te che mi hai chiamato, zia? Chiamami dottore. Signor Presidente! Signor Presidente, provveditore. Mamma mia, quanto si può? Mamma mia. Il gelato è ottimo, anche Natale. Provate il nostro nuovo gusto, palettone. Che carina. Se era Pasqua, mi davi la colomba. Genna. 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 You are very kind. Oh, you're not English. No, I'm napoletano. Dio con gli elmo, quanto tempo! E trabacando, trabacando, ha accumulato 300 milioni di dollari. Azzù. Ne, azzone, pozzan della guerra. In questa casa ci vuole più rispetto, regole e tradizione. Io sono Cristiano Copto e faccio presepe copto. Fallo copto, quando vuoi tu, basta che presepe. Non vuoi facermi? Ciccia, se ti metti la lingua in bocca, ti levo la placca.